Il Comunio nazionale è quello promosso da IOM sui PRO, però esiste anche un'evoluzione. Alessandra Fabi, membro del direttivo IOM. L'evoluzione è quella di andare a ricercare in maniera dinamica quelli che sono non solo l'effetto collaterale che nasce, che si sviluppa, che evolve, che anche migliora ovviamente grazie alle cure e lo andiamo a rilevare in maniera dinamica. Questo è quello che si sta cominciando a ricercare attraverso delle ricerche cliniche attraverso una digitalizzazione della narrazione dei pazienti oncologici. Che cosa significa questo? Che noi andiamo a catturare in maniera dinamica, lo confronto un po' come una biopsia liquida, andiamo a catturare in maniera dinamica nel percorso continuo delle nostre pazienti attraverso una narrazione spontanea che i pazienti effettuano grazie ad una piattaforma, quelle che sono tutte le rilevazioni della propria qualità di vita, non solo effetto collaterale, non solo sensazione, non solo evidenza, dolore, ma anche quello che è quella che noi chiamiamo la tossicità emotiva, il migliorare oppure il peggioramento, il miglioramento oppure il peggioramento di quello che è la sensazione della cura. Molte volte noi leggiamo attraverso questo diario delle evidenze che precedono un attack, che precedono l'evidenza radiologica di una progressione, di un miglioramento. Questo grazie ad una rilevazione dinamica dell'effetto collaterale. Questo grazie al fatto che attraverso la conoscenza di Cristina Scenci ci tengo a presentarla personalmente, un'antropologa che è la creatrice, l'ideatrice e che ha sviluppato a livello nazionale e non solo il digital narrative medicine. Cristina, ecco, un convegno di oncologi in cui anche l'antropologo entra di prepotenza. Sì, grazie. Beh, spero non tanto di prepotenza, però un po' è vero, perché effettivamente l'antropologia che cosa porta in queste metodologie di ascolto? Porta una maggiore consapevolezza proprio su come si costruisce il dato. Immedesimiamoci in una persona che sta facendo una camionterapia e al ventottesimo giorno magari torna in dei hospital, riceve i patient report e gli chiedono nell'ultima settimana o nell'ultimo mese che cosa hai avuto di tutti questi sintomi e cominciamo nausea, vomito, capelli, tutto quello che vediamo magari nelle ortisi 30, solo problemi peraltro. Ma voi immedesimatevi, ma vi ricordereste? Ma che cosa vi è successo in quel periodo? Forse ti ricordi la cosa più recente, oppure quella che ti ha messo più paura, oppure non vorresti adesso rivivere tutti quegli effetti e vorresti poter condividere quello che invece ti ha fatto bene, quello che ti ha aiutato, l'alimentazione che ti ha dato un supporto, il movimento che sei riuscito a fare. Quindi nel momento in cui noi vogliamo portare il punto di vista della persona all'interno dell'insieme dei dati che il team clinico ha per personalizzare la terapia, rilevare le tossicità o anche aiutare la persona, dobbiamo farlo con un approccio un po' più complesso. In questo ci aiutano le metodologie della medicina narrativa. Ci sono delle linee di indirizzo dell'Istituto Superiore di Sanità sull'utilizzo della medicina narrativa e ci aiuta anche il digitale, perché la medicina narrativa prima dell'avvento del digitale implicava delle interviste, implicava dei diari cartacei. Voi immaginate ogni giorno poi il medico che si ritrovava o il team curante multidisciplinare decine di diari cartacei, ma come faceva a gestirli? Il digitale ci aiuta invece a valorizzare l'estrema soggettività del vissuto di malattia, la complessità di questo vissuto che non è fatto solo di problemi standardizzati dai questionarii, ma da tanti aspetti problematici, ma anche positivi, e nello stesso tempo a standardizzarlo, a renderlo accessibile al team di cura. Perché noi possiamo, cioè nella piattaforma, questo diario è leggibile, è analizzabile ed è integrabile anche con i questionari validati. Il paziente, tra l'altro, alla paziente viene offerta un percorso coerente. Non è che qualcuno da un lato gli somministra il questionario, qualcun altro gli chiede il diario. No, è in tutto un percorso integrato che diventa anche un percorso di ascolto piacevole, perché dobbiamo anche stare attenti che questi strumenti possono essere delle molestie statistiche. Voi immaginate, io ho sentito prima, è un questionario quotidiano, un questionario settimanale, i dispositivi per rilevare i biosensori, ma la persona si vuole liberare dalla malattia, vuole vivere una normalità nella quotidianità. Gli strumenti con cui ascoltiamo il punto di vista della persona devono facilitare questa normalità, non aggravarla ancora di più. E scrivere piace, scrivere aiuta a riappropriarsi. Se questa scrittura la standardizziamo e la integriamo, come stiamo facendo anche con un sistema di intelligenza artificiale, ovviamente riusciamo a mettere usabilità e fattibilità, ma anche un ascolto partecipato insieme. Quindi è un'indagine qualitativa, è un'indagine quantitativa, perché ovviamente noi con i questionari di qualità siamo abituati a dare un numero o a dare una quantificazione, perché noi abbiamo bisogno di capire se quel fenomeno quanto è stato importante, oltre che come è stato importante. E quindi ci abbiamo pensato, ci siamo viste, abbiamo ragionato. Allora a un certo punto Cristina ha pensato che l'intelligenza artificiale ci poteva in qualche modo aiutare. Stiamo portando avanti, insieme a Cristina Scenci, questa progettualità di identificazione della qualità della vita, ma anche di quantizzare la problematica, nel bene o nel male, attraverso l'intelligenza artificiale.